Potenziamento dello spazzamento manuale e meccanizzato, incremento della raccolta differenziata, in particolare quella del vetro, che passerà da una volta ogni 15 giorni ad una alla settimana. Grottaglie sarà divisa in 12 zone e l'attività degli operatori comincerà alle 4, così da poter liberare quanto prima le vie cittadine. Vanno in questa direzione le novità della raccolta differenziata nella città delle ceramiche. È suddivisa in 12 zone, tra cui 2 zone per il centro storico e 10 zone per il centro abitato. Ci sarà un operatore in ogni zona munito di un mezzo completamente elettrico. Il servizio partirà la mattina alle 4 e quindi non troveremo più ostacoli nella circolazione, non creeremo più ostacoli per quanto riguarda la circolazione del centro abitato. Partiamo anche con la distribuzione per quanto riguarda le buste per la raccolta dell'organico. E per sensibilizzare soprattutto i più piccoli sui temi ambientali, domenica 13 ottobre è una giornata dedicata all'oro e all'ambiente che li circonda, contestualmente alla presentazione dei miglioramenti che si attueranno in città. Loro saranno il nostro futuro e daranno un contributo personalmente. L'assessore Stefani ringrazia i concittadini. Ottimi risultati da mantenere e superare, dice, mentre nel frattempo continua il controllo con l'ausilio della Polizia Locale e dei Mastelli, soprattutto dell'indifferenziato, per beccare i furbetti. Un ringraziamento alla cittadinanza. Un ringraziamento perché nel mese di agosto abbiamo raggiunto una raccolta differenziata del 76%. Vuol dire che i cittadini si stanno impegnando a poter dare per i propri figli un futuro migliore.